La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. In tutto questo l'Unione Europea per dimostrare sempre di più la sua arroganza, sempre di più il disprezzo che ha per i popoli e per i lavoratori, proprio mentre gli agricoltori sono disperati e stanno in tutte le piazze d'Europa per protestare contro le direttive europee, l'Unione Europea ne approva un'altra che viene definita ammazza stalle, perché va ad equiparare le stalle, cioè chi ha allevamenti di bovini e di suini a delle vere e proprie fabbriche inquinanti, quindi le mettono sullo stesso livello, creando ovviamente dei problemi e dei costi enormi per gli agricoltori, che invece una fabbrica non lo sono. Questo per farvi capire quanto l'Unione Europea se ne freghi delle istanze dei manifestanti, quanto se ne freghi di salvare il compasso. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.